C'è un'altra intervista di Sam Altman fatta durante Davos che voglio analizzare insieme a voi perché questa volta si parla di GPT-5 o vedremo forse addirittura un altro nome, come sempre vi lascio l'intervista originale qui sotto perché ve la guardate voi, sono 25 minuti di intervista, però ci sono due o tre domande secondo me alle quali Sam ha risposto con delle informazioni estremamente interessanti che ci danno un po' un'idea di dove sta andando OpenAI e quali sono i prossimi step che ci dobbiamo aspettare, quindi adesso ce la guardiamo insieme, ci guardiamo quel pezzettino che voglio condividere con voi come sempre facendo un po' di ragionamenti, un po' di analisi insieme. Prima di iniziare vi ricordo se volete supportare questo canale e i contenuti bellissimi che vi porto qui sotto potete farlo premendo il pulsantino grazie per fare una donazione, c'è proprio un pulsante grazie qui sotto, potete donare quanto volete voi, oppure fate l'abbonamento che è una donazione che si fa tutti i mesi e vi sblocca pure delle funzioni da YouTube. Allora, metto play, ci tuffiamo nel vivo dell'intervista e devo dire che le domande sono belle interessanti, non sono domande così banalotte e mi piace perché anche Sam dà delle risposte molto interessanti. Andiamo con la prima. Vabbè, qua si parla, non ho mai visto una tecnologia così veloce, sono 25 anni che sto in questo settore, eccetera, eccetera. Riflessione sul fatto che le altre tecnologie ci hanno messo anni per crescere, cioè GPT l'ha fatto in un anno. E si parte subito a bomba, cioè la domanda è, Sam, visto che pure tu a volte hai detto che hai difficoltà a predire dove può andare i tuoi prodotti e non avevi nemmeno immaginato di come le persone lo utilizzassero, e in che direzione sarebbe andato, cosa ci puoi dire per il 2024? Quindi cosa sarà in grado di fare, cioè GPT quest'anno, che non sapeva fare l'anno scorso? Interessante, vediamo la risposta di Sam. Siamo partiti da questo. Ok, quindi primo int su GPT 5. Ovviamente, questo ce l'aspettavamo. Ma no, ha detto GPT 2 faceva veramente poco, GPT 3 inizia a fare qualcosino, GPT 4 fa parecchio, GPT 5 saprà fare molto 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 di più. C'è un passaggio interessante. Andiamo un attimo indietro. Andiamo un attimo indietro. Voglio sottolineare un passaggio. It gets smarter. Diventa sempre più intelligente. Questa cosa, secondo me, è super interessante e si collega con quello che dirà tra poco. GPT 4 può fare molto più. GPT 5 potrà fare molto più più. E la cosa che... o quale chiamiamolo. E la cosa che... O quale chiamiamolo. Questa cosa qua a me ha spiazzato un pochino, perché sono quelle cose, no, che uno va avanti nell'intervista, invece dice, vabbè, GPT 5 farà molto di più, o comunque lo chiameremo. Ci potrebbe essere quindi la possibilità di un prodotto che non esca con il nome GPT 5. Cioè, se lui ha sentito, secondo me, l'importanza di fare questa precisazione, di sottolineare questa cosa, mi aspetto pure che il prodotto potrebbe cambiare nome. Non è GPT-X, GPT-Super, o qualcosa che si chiami in maniera diversa, però vediamo. Questo è super interessante. Questa, secondo me, è la chiave di questa cosa e ci fa capire cosa ci dobbiamo aspettare dal GPT 5. E cioè, ha detto, non è che a me non mi interessa sapere che c'è questa nuova, no, modalità, quindi gli aggiornamenti che ci sono stati fino a mo', abbiamo aggiunto l'audi, abbiamo aggiunto le immagini, eccetera, eccetera, ma il fatto che, vedete pure scritto a schermo, Generalized Intelligence keeps increasing. Generalized Intelligence. Ed è questo il punto principale. Ricordatevi che qua sopra c'è già un video che parla di AGI e di qualche annuncio del fatto che ci siamo vicini, ed è chiaro che GPT-5 va in quella direzione, di migliorare l'intelligenza, quella generale, generica, generalizzata, no, quella trasversale, renderlo sempre più intelligente da questo punto di vista. Problemi sempre più lunghi, sempre più complessi, in maniera più accurata o di più. E questo è spettacolare, che è la grossa limitazione di chi, diciamo, sta spingendoci a GPT un po' al limite, no? Se lo usate tutti i giorni, anche per lavoro, semplicemente per sperimentare, li avrete viste sicuramente anche voi, queste, diciamo, queste limitazioni, no? Che a un certo punto raggiunge il massimo che riesce a fare, mettiamola così. Invece questa frase, secondo me, è esattamente un po', se volete, la chiave con la quale dovremmo leggere quello che ci dobbiamo aspettare da GPT-5. Sapete, a me non mi piace stare qui a fare il gossip, no? Ah, vedi, faccio vedere il segreto in anteprima. No, no, proviamo a ragionarci proprio bene, leggendo dalle sue parole, perché lui se dice queste cose, significa che ce l'hanno pronto, semipronto, e che quindi hanno lavorato su questa parte qua. Quindi andare sulla general intelligence e andare sul more problem, more complex, more accurately. Quindi, più problemi, più complessi, più accurati. That is increasing across the board, and that to me is one of the few things that... That is increasing across the board. Make this totally different from any previous kind of technology. E dice questo quello che lo rende completamente diverso da tutto il resto, no? Dalle altre, dalle altre tecnologie. Quello che mi aspetto dopo una decreazione del genere, cioè a GPT-5, è chiaro. Cioè, la direzione alla quale stiamo andando è questa qua. di riuscire a gestire problemi che oggi sono fuori dalla sua portata. Si è parlato molto spesso, anche su questo canale, per esempio, della matematica, no? E di cosa succede quando questa tecnologia è in grado di gestire problemi matematici. Qua è interessante, perché dice, ma da cosa arriva questo grosso cambiamento, questo salto in avanti? avremo più modelli più potenti, oppure la miglioria c'è perché ci sono più persone, quindi aziende, sviluppatori, ricercatori, no? Gente che smanetta, che attesta, che stanno sviluppando su questi modelli. Eppure qua è interessante. Quindi dice, innanzitutto per noi è il nuovo modello, la cosa più importante, il modello più potente. Questo è un passaggio fondamentale, no? Di quando si è discusso, quando è stato licenziato, poi riassunto, eccetera. Siamo partiti come un'azienda che faceva ricerca, ora siamo un'azienda dove la parte di prodotto è fondamentale. e capiamo che dobbiamo portare avanti queste due linee in parallelo, no? La prodottizzazione per noi è un passaggio importante. Anche cui, domanda tostissima. Ok, Sam, ma dicci concretamente, cosa possiamo fare che fino a mo' non si poteva fare? Cioè, quale delle limitazioni finalmente supereremo? Vabbè, quindi alcuni esempi, no? Dice, supereremo il problema delle lucidazioni, avremo dati migliori. Questo, secondo me, è un passaggio fondamentale, no? Di come dei dati si sta parlando tantissimo. Problema delle lucidazioni da un lato, problema dei dati prodetti da copyright dall'altro lato, problema dei dati non aggiornati in tempo reale, no? In tanti iniziano a dire, ma sono forse i dati la limitazione di questi strumenti? Ma non è che forse raggiungiamo un plateau a un certo punto e più di tot non possono migliorare? Secondo me, Sam, ha un paio di insight interessanti su sta cosa. Vabbè, cosa secondaria, miglioreremo la voce. I expect, I think where we're headed, and then I'll talk about this year, is we're headed towards the way you use a computer is to talk to it. The operating system of a computer, in some sense, is close to this idea that you're, like, working inside of a chat experience or an AI experience. And, you know, you get to your computer, and rather than go open a browser and type in Gmail and look through your emails or whatever, you might just say, like, what were my most important emails today? Can you respond to all of those? I'll see these, you know, go find this thing there and send it. Capite cosa sta dicendo? Il modo con il quale utilizzeremo il nostro computer cambierà profondamente. Abbiamo visto qualcosina quando vi ho fatto il tutorial su Open Interpreter, andatevelo a vedere, e quindi di come possiamo integrare questi strumenti in locale sul nostro computer, no? E quindi non solo fare cose in chat, ma farle sul nostro computer, sulle nostre app e sui nostri file. Sono dei progetti pilota, della roba, diciamo, abbastanza sperimentare per il momento, ma la direzione è quella. Con il Rabbit R1 abbiamo visto si va nella direzione di integrarsi con le nostre app. Qua Sam lo dice senza giri di parole. Questo è proprio, facciamo sempre l'esempio di Star Trek, scusatemi, ma è proprio quello, è proprio Star Trek, no? È proprio, lui ha detto, computer, quali sono le email più importanti di oggi? Rispondi a tutte, per favore. Ed è quello. Lui dice, voglio entrare in quell'ottica, non deve essere più l'esperienza di apro una chat, faccio delle cose che ho una chat e ho quella user experience da chat, ma deve essere il sistema operativo del computer, cambierà il modo con il quale utilizziamo il computer. Questo, ragazzi, è wow. L'ha sottolineato, ha detto, tutti i grandi cambiamenti tecnologici hanno permesso di utilizzare il computer in modo diverso, no? E lo sappiamo, da quando lo utilizzavamo a linea di comando, a quando abbiamo utilizzato le interfacce grafiche, da quando lo utilizzavamo su un computer grosso in una stanza, quando abbiamo avuto i computer sulle nostre scrivanie, prima e dopo internet, eccetera, eccetera. Hanno stravolto il modo di usare il computer. E lui dice, GPT-5, le nuove evoluzioni di questa tecnologia, ci porteranno a quello, a un nuovo modo di utilizzare il computer. Questo, secondo me, è estremamente potente come concetto, no? Perché noi ci stiamo concentrando molto sul, sì, ma la foto è abbastanza realistica o no? Ma questa è... sembra reale oppure no? Ma la possiamo migliorare oppure no? Sono cose interessanti fino a un certo punto, ma quando si parla di rivoluzionare il modo nel quale usiamo il computer, tanta roba. Questo è chiaro. Le persone faranno sempre più lavoro all'interno di un language model. Chiarissimo. Qua la domanda gli è fatta, in modo esplicito, no? Quindi se fino ad ora avevamo sempre questa esperienza di dover fare... aprire un'app, no? Quindi, vabbè, sì, alla fine è tutto molto bello, Sam, ma è un'app. Quindi devo aprire un'app e fare delle cose dentro l'app. Forse cambieremo questa esperienza? Cioè, l'avremo dentro un ambiente diverso? Sarà diversa proprio l'esperienza? E lui fa un ottimo esempio, che è la prima cosa che ho pensato pure quando ho guardato quell'intervista. Cioè, ci sono alcuni lavori che scrive codice, per esempio, che gli è stato stravolto letteralmente quest'anno, no? Con gli assistenti Copilot o tutta la roba, diciamo, che volete citare. Ha cambiato profondamente il modo di fare programmazione e cambierà ancora di più il modo di fare programmazione. è la seconda volta che dice AI Operating System. E nonostante lui dica non so come è fatto, secondo me, il signore lo sa molto molto bene perché il suo lavoro è perché si vocifera da mesi sul fatto che loro stiano lavorando a uno smartphone che nasce con il marchio di OpenAI. Adesso, se questo è un rumor o una cosa certa, non lo so. Non so se avremo questo smartphone, ma il fatto di parlare di un sistema operativo AI-based secondo me è una questione fondamentale. E qua ha detto non sono sicuro di come e delle tempistiche, ma immagino che per fine anno sempre più persone si troveranno in un'esperienza dal genere. Vabbè, qua mi fermo perché era questa parte qui che a me interessava. Se volete questo piccolo spoiler su GPT-5 e quello che ci dobbiamo aspettare dal 2024. L'intervista è molto bella, le domande sono molto interessanti, profonde e anche pungenti in alcuni casi. Vi lascio link qui sotto andatevela a vedere. Ma questa parte qui è quella che volevo analizzare insieme a voi. Se vi è piaciuto questo video, ma in generale se vi piace la roba che porto sul mio canale YouTube, cliccate grazie sotto uno o qualsiasi dei video, anche questo qua, e potete lasciare una piccola donazione oppure potete fare un abbonamento per fare una donazione ogni mese. O, se volete studiare l'intelligenza artificiale con me ed altri esperti, ci vediamo nella mia academy IA360.academy. E visto che di dichiarazioni interessanti, Sam ne ha fatte diverse quest'anno a Davos, vi lascio a schermo il video nel quale parla di EGI e non è stato l'unico a parlarne perché ne ha parlato anche Mark Zuckerberg. approfondiamo un pochino cosa sta succedendo e capiamo perché l'EGI forse è più vicina di quello che pensiamo. Andatevi a vedere il video. Grazie.